Nella terza giornata del campionato di Serie D, girone F, al comunale di Nereto, Notaresco batte Nereto con il risultato di 2 a 3. Gara pazza, movimentata e divertente. Il derby fra i rosso-blu abruzzesi, però, va alla truppa di Epifani, che ha avuto il merito di rimanere sempre in partita e fornire una prestazione più continua nell'arco dell'intera gara. Con le immagini di Danilo e Gian Domenico, passiamo agli elizzi della partita. Avvio ricco d'equilibrio, le due squadre si studiano a vicenda. Ciganda rompe il ghiaccio e tenta l'euro-goal dalla lunghissima distanza, ma il pallone si abbassa troppo presto. Successivamente, Valenti prende le misure, prima saltando un avversario cercando il cross al centro, poi sfiorando il gol olimpico direttamente da calcio d'angolo. E' sempre il numero 10 bianco-rosso, che al 28esimo tenta di infilare De Luca sul primo palo, attento nel deviare in corner. Alla mezz'ora, però, l'episodio che stappa la partita. Pesce si incuna a centro area e, d'esperienza, si procura il penalty. Dal dischetto va Valenti, che incrocia il punto giusto e sigla lo 0-1. Passano sei minuti e sulle ali dell'entusiasmo il notaresco raddoppia. Ha solo Di Pampano, che si accentra sul piede forte, e dalla lunga distanza disegna una parabola giottesca che beffa De Luca. Doppio colpo notaresco. A rientro dagli spogliatoi, il nereto prova subito a reagire. Cenci si invola a testa alta, ma spara largo. Appena dopo, doppia colossea l'occasione per il notaresco. Prima Gassama si lascia ipnotizzare da De Luca sugli sviluppi dell'azione. Pesce salta a tutti, ma soltanto il legno può dirgli di no. All'undicesimo il nereto accorce improvvisamente lo svantaggio. Gli uomini di Epifani perdono ingenuamente palla. Ciganda ne approfitta e da tu per tu con scipa lo salta con un dolce pallonetto. E' lo stesso Ciganda ad avere l'occasione del pareggio, ben imbeccato da Faiè, ma si divora tutto calciando a lato. La dura legge del calcio? Gol mangiato, gol subito. Al ventesimo contropiede letale degli ospiti che innescano Pampano, abile ancora a convergere verso il centro ed infilare De Luca sul primo palo. Partita pazza al comunale. Sarà finita, ma che? Da una parte all'altra non c'è attimo di sosta. Scatenato Ciganda che sguscia via Speranza, ma fallisce ancora l'appuntamento col gol calciando Debole il centrale. Poco male, perché alla mezz'ora ci pensi il non arrivato De Falco a siglare il gol del 2-3. 1-2 d'alta scuola, che conduce il numero 15 occhi negli occhi col portiere. De Falco mette in luce tutta la propria esperienza e freddo, lucido, segna subito all'esordio. Gli ultimi assalti dei locali non sortiscono gli effetti sperati ed il notaresco si riaffaccia in avanti con Maio, murato basso da De Luca. L'ultima emozione del match è sul fendente di Nardini che fa la barba al palo, suscitando più di un brivido sulla schiena di Shiba. Non accade però più nulla. Il notaresco riscatta la sconfitta col Trastevere attraverso una prestazione gagliarda e sbarazzina. Al Nereto, più di un rammarico. Senegallesi può contare però sul secondo tempo dei suoi, sintomo di una squadra viva che può e vuole dire la sua in questo campionato. L'idea, sinceramente, dall'inizio era proprio quella. Noi avevamo questi ragazzi che non erano in condizione di fare 90 minuti. Speravamo di tenere nel primo tempo per poter poi giocare con un po' più di vivacità nel secondo. Sinceramente aver preso quei due gol uno dietro l'altro, tra l'altro non costruiti dall'avversario, ma totalmente regalati, è stato un problema. La reazione del secondo tempo però, secondo me, è stata vehemente, di grandissimo livello e dobbiamo ripartire da qui perché mettere sotto una squadra come il San Nicolò è tanta roba, sinceramente. Guarda, anche in quel momento dove abbiamo, tra virgolette, sofferto. Abbiamo sofferto per aver preso un gol su fallo laterale nostro, una palla in diagonale dato al secondo centrale. Veramente roba che non si deve fare mai in nessun campo di calcio. Abbiamo sbagliato, abbiamo riaperto la partita, poi siamo stati subito bravi a rimettere in carreggiata col 3-1 e poi abbiamo preso gol su un passaggio sbagliato loro, un inserimento da dietro dove una squadra come la nostra non deve mai prendere gol. L'abbiamo rimessa un'altra volta in gioco la partita, però fa parte del percorso di crescita di una squadra. Oggi era importante vincere, l'abbiamo fatto, e andiamo a casa contenti con il risultato e dobbiamo vedere quello che non è andato, perché quello che è andato va bene, ma bisogna sempre vedere quello che non va.